stiamo facendo questi tutorial con alessandro e claudio che servono per la colarte anche per la scuola però è un lavoro molto importante faccio delle fotografie c'è un macchinari qui molto sofisticati per cui ci vuole tempo adesso un'altra oretta e poi vengo a casa mangiate voi ok ciao ciao